Ugo, un'altra tua grande partita, purtroppo non è bastata oggi. Sì, sicuramente ci avrebbe piaciuto vincere questa partita perché era l'ultima in cassa di questo campionato. Era il meglio che potevamo fare vincere per tutti i tifosi, però non siamo riusciti. Abbiamo fatto comunque una bella gara secondo me perché ci sono state tante opportunità per fare gol da parte nostra e anche da parte di loro. Però secondo me è stata una bella partita e peccato che non siamo riusciti a vincerla. Anche tu sei andato spesso in avanti, ci hai provato. Sì, soprattutto nel secondo tempo perché come ti stavo dicendo volevamo vincerla e abbiamo provato tutto quello che potevamo per riuscirci. Però alla fine è andata così, almeno non l'abbiamo persa perché questo anno è stato un po' sfortunato per noi. Di solito queste partite così le perdiamo, oggi almeno siamo riusciti a parisciarle. Un anno sfortunato, dicevi, il bilancio è parzialmente negativo. Sì, sicuramente. Poteva andare molto meglio, soprattutto in Coppa che l'abbiamo persa per calci di rigori, secondo me, dove gioca tanto la fortuna. Però comunque secondo me sono molto contento per quello che abbiamo fatto in Coppa e un po' meno per quello del campionato perché abbiamo fatto un campionato anonimo. Sicuramente dobbiamo adesso prendere forza di tutte le parti per iniziare bene il prossimo campionato. Oggi un'altra manifestazione d'affetto da parte dei tifosi alla squadra, ma anche a te personalmente fa sempre piacere. Sicuramente, quello che fa più piacere di tutto è quando io sento il coro dei tifosi perché mi hanno appoggiato durante tutto l'anno. E oggi mi hanno appoggiato, anche se è andata male in Coppa Italia, mi ha toccato sbagliare l'ultimo rigore. Loro sono stati presenti, mi hanno fatto avere il suo affetto. Per questo li ringrazio tantissimo. Mirko, ci sarebbe stata una vittoria per chiudere bene questo campionato in casa? Sì, ci sarebbe stata sia per i tifosi sia per noi per chiudere l'anno in bellezza in casa. Questo non è avvenuto, però devo dire che almeno ci abbiamo provato perché le occasioni le abbiamo avute. Loro sapevano che lottavano per qualcosa di importante perché forse erano ancora in corsa per la Coppa UEFA. Avevano delle motivazioni, noi no, però credo che l'ultima in casa siamo stati abbastanza soddisfatti della nostra prestazione. Pensiamo di aver fatto contento i nostri tifosi. Tu avevi magari qualche motivazione anche in più essendo un ex? Sì, forse sì. Comunque ormai sono passati tre anni, tanti giocatori se ne sono andati. Nella società ho visto che sono cambiate tante persone. Comunque mi fa sempre piacere salutare sempre vecchia gente dove ho passato cinque anni belli. Oggi avete salutato i tifosi, ancora una volta vi sono stati vicini, hanno dato una prova d'amore per la squadra. Sì, questo noi lo vediamo ogni giorno che qua e la maglia ci tengono veramente tanto. E oggi hanno dato un'altra ulteriore dimostrazione che veramente sono proprio attaccati a noi, alla società, proprio alla squadra della Sampdoria. Tornando al campo avete provato una difesa a quattro un po' inedita? Ma non è la prima volta. Diciamo che quando troviamo delle squadre che giocano a tre punte abbiamo sempre poi giocato a quattro. Questo è vero. Loro si sa, il modulo di Marino, loro allenatore, è sempre stato tra le quattro a tre. Poi con i giocatori che si trovano davanti bisogna stare attenti perché sono molto bravi. Sì che quando si trova queste squadre con questa formazione qua bisogna scendere a quattro. Ora come si riparte quest'anno? Angelo ha firmato il rinnovo, Pazzini, Cassano dovrebbero rimanere. Ci sono buoni presupposti per fare una stagione la prossima di riscatto? Sì, i presupposti ci sono buoni. Ho visto tanti giocatori come Angelo che è fondamentale per qua, ha rinnovato, Cassano, Pazzini stesso. Ora vediamo, ora pensiamo a domenica, abbiamo l'ultima partita, a passare l'estate dando magari un'occhiata al giornale per vedere il mercato cosa fanno e poi ci ritroviamo e ripartiremo. Andrea, peccato non aver chiuso con una vittoria. Sì, peccato, è mancato solo quello oggi, però purtroppo anche oggi abbiamo preso due golli un po' così, un po' strani come tante altre volte e ci è girata male anche oggi, però la Sampdoria comunque ha fatto una bella partita davanti a un pubblico anche oggi numerosissimo e è mancata solo la gioia della vittoria per regalare ai tifugi che quest'anno sono stati straordinari. Appunto non hai mai perso occasione per sottolineare l'attaccamento che questo pubblico ha per questi colori. Sì, ci hanno sempre sostenuto, sono venuti a Milano in migliaia, a Roma non ne parliamo, oggi la curva era piena, ci si fanno sentire la prima all'ultimo minuto, quindi la soddisfazione di giocare davanti a questo pubblico è enorme. Vorresti giocarci ancora per tanti anni? Se dipendesse da me sì, guardiamo ora dopo l'ultima parte del campionato come si evolve la situazione. Si torna proprio in quella Palermo. Sì, si torna nel cuore di Palermo, spero per l'ultima giornata di campionato.